metto anche il cappello ok entro subito nel vivo visto che abbiamo poco tempo quindi lo sfrutto al meglio che posso registrando ok senti volevo chiederti subito cosa si può dire della regina che racconti nella tua canzone e se è vero che è nata a lago maggiore ho letto se è corretto se puoi dirmi nel caso qualcosa in più è correttissimo regina il personaggio di regina è la mia ex sedine che è una talentosissima attrice che poi ha anche prestato il suo volto per la copertina e per il videoclip abbiamo scritto questa canzone durante una gem sul lago maggiore per l'appunto in questa baita dove abbiamo adibito uno studio abbiamo proprio costruito uno studio al nulla insieme a degli amici ai ragazzi della straniero band e una mattina è nata questa canzone nel giro di veramente mezz'oretta e alla fine della giornata riascoltandola io ho avuto questa realizzazione che potesse essere giusta per il palco di sanremo me la sono immaginata con l'orchestra e l'ho detto ai ragazzi e da lì abbiamo iniziato a lavorare appunto per far sì che questa cosa accadesse poi il tutto è contornato dalla presenza di celine che che è una donna fortissima è per me assolutamente un esempio di caparbietà di determinazione celebrare questa figura femminile celebrare in generale la figura della donna penso che sia un dovere di ogni uomo in un momento come questo siamo in dirittura d'arrivo per l'otto marzo siamo siamo quasi stiamo arrivando alla festa della donna e penso che sia fondamentale ricordarci di quanto le donne siano importanti e soprattutto di quanto la società storicamente non abbia dato giustizia al genere femminile e penso che sia fondamentale per ogni nuovo per ogni uomo combattere contro il contro il patriarcato e esaltare e celebrare la figura della donna grazie ogni uomo deve essere femminista cento per cento è una canzone che ti ha già fatto conquistare un premio no pensando questo sanremo perché te va il premio lunezia e il motivo è il valore musical letterario cosa cosa hai pensato e che cosa cosa significa per te è stato assurdo è stata una notizia che mi ha mi ha sconvolto poi mi hanno detto questo premio l'ha vinto anche fabrizio ed andrea e io sono rimasto cosa e quindi è un onore pazzesco praticamente il primo riconoscimento della mia vita in un modo in un altro è veramente assurdo che che sia arrivato proprio a me è come se come se me lo stessi sognando in un modo in un altro invece è vero svegliatemi invece quali sono le tue sensazioni davide per questo sanremo pensando magari al punto al momento storico e al fatto che si può fare musica in questo momento e lo si fa sul palco dell'ariston per te sono sono infinitamente grato anche se ok importantissimo messaggio è obbligatorio utilizzare mezzi di protezione individuali penso che sia fondamentale appunto farlo però ecco in un momento storico come questo essere presenti sul palco non è una cosa per niente scontata anzi è una grossissima responsabilità di portare energia positiva nelle caselle degli italiani è un momento di aggregazione sperando che ci si possa riunire a presto e dando esempio che la musica si può fare in tutta sicurezza è che il nostro settore può ripartire con tutte le misure di sicurezza però c'è bisogno che ci lasciano lavorare perché c'è bisogno di musica c'è bisogno di cultura mi hai anticipato infatti una domanda cosa significa per te la musica in generale al di là di questo momento per me significa vita per me è tutto io mi alzo la mattina da quando ho memoria e penso alla musica la prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio metto su della musica o un fischietto o canticchio una melodia o o rappo delle barre o e tutta la mia vita gira tutta attorno alla musica per cui per me è fonte di vita se non mi lasciano se non mi lasciano fare la mia musica è è difficile che io possa vivere e anche per chi l'ascolta forse vero vita la musica mettendosi dall'altra parte io spero spero di sì spero che la musica possa essere importante per tutti noi penso che sia terapeutica penso che sia motivo di condivisione di stare insieme di analisi è ciò che dà voce alle nostre emozioni profonde è un modo di guardarci dentro analitico anche se a volte non ce ne rendiamo conto è proprio qualcosa di è uno strumento che rende semplice ciò che in realtà può essere molto più complesso sei felice Davide? tantissimo perché? sono felice perché ho tanto amore attorno a me in questo momento sono estremamente grato come non lo sono mai stato in vita mia penso che la gratitudine sia una cosa fondamentale mi sono ripromesso da un paio d'anni a questa parte di non perderla mai di praticarla proprio come se fosse una disciplina perché la gratitudine è una pratica e va praticata ogni giorno e aiuta proprio la vita il flusso della vita e dell'energia quindi sì, sono felice penso che questo sia un momento della mia vita in particolare molto felice un'ultima domanda chiudiamo sempre così le nostre interviste chiedendo a voi artisti Sanremo in una parola sola esplosivo ok grazie mille Davide grazie grazie a te buona serata e buon festival a prestissimo ciao 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 Grazie.